Il comune di Capannori investe sulla cultura e a distanza di 5 mesi dall'inaugurazione di AETE annuncia che la biblioteca Alex Mattaccio sarà pronta ad aprire i battenti il prossimo 1 maggio. Un investimento di circa 1 milione di euro, di cui tra i 159 mila provenienti dalla regione e 100 mila dalla fondazione Cassa di Risparmio. Uno spazio che vuole essere il più possibile polivalente, con la biblioteca dei ragazzi, le sale studi e lettura, le meroteche e la libreria multimediale e poi ancora spazi per presentazioni o conferenze, una caffetteria accogliente ma soprattutto lo splendido parco nel quale il nuovo Mattaccio sorgerà a breve. Io credo che gli sviluppi dei territori si facciano non soltanto su alcuni elementi che sono considerati tali, tipo l'urbanistica o le infrastrutture. Credo che anche il bene immateriale e cultura sia un bene importante perché si formi una comunità coesa e che guardi al futuro. Non a caso noi abbiamo investito molto su questa cittadella della cultura il cui nome lo troveremo strada facendo e il primo di maggio la inaugureremo a distanza di 5 mesi dall'altra inaugurazione che è quella di Artè e a distanza di altri 5 mesi nel futuro dell'inaugurazione del polo tecnologico. Tre grandissime opere, grandi opere per il territorio che vanno nel segno della cultura che vuol dire? Vuol dire grande attenzione al territorio, grande attenzione ai cittadini e un pensiero sottende tutto questo, cioè che l'elemento cultura sia un elemento centrale perché un territorio si formi. Noi lo abbiamo pensato e abbiamo messo a disposizione di tutti i cittadini di Capandoli tre grandi spazi dove si possa approfondire la cultura.